A presenziare al convegno dedicato ai nuovi approcci terapeutici e nuove speranze per il trattamento del cancro organizzato dal centro medico Santi Pietro e Paolo di Agropoli, anche il dottor Giovanni Darina del centro di riferimento oncologico della Basilicata di Rioniero in Vulture, che ha trattato i progressi in oncoematologia. Io ho parlato della leucemia linfatica cronica, che è una patologia che fino a pochi anni fa è stata considerata una patologia inguaribile e per la quale ci sono dei grandi progressi, progressi nel campo non solo diagnostico ma anche proprio di trattamento con nuovi farmaci che ci hanno consentito sostanzialmente di dimostrare che è possibile ottenere quella che noi chiamiamo una negatività della malattia minima residua cioè della possibilità di ottenere delle risposte così profonde per le quali anche una minima quantità di malattia è con le tecniche di cui disponiamo attualmente impossibile da dimostrare. Questo chiaramente è un preludio alla possibilità di una guarigione. Noi ci auguriamo che negli anni nuovi trattamenti possano superare i dati che abbiamo attualmente che sono dei dati estremamente importanti e straordinari perché la sopravvivenza di questi pazienti si è nettamente allungata e perché appunto aver dimostrato che è possibile ottenere anche con farmaci non chemioterapici ma con la immunoterapia ottenere delle risposte così profonde da avere addirittura una negatività della malattia minima residua così come viene definita tecnicamente e questo chiaramente ci rende ottimisti per un futuro. Interessante è anche l'intervento del dottor Antonio Santoriello, senologo presso la clinica Cobellis di Vallo della Lucania che ha trattato invece il tema della terapia chirurgica nel cancro della mammella. Abbiamo esplicato quelli che sono i percorsi senologici per fare un'adeguata prevenzione in oncologia mammaria. Un corretto percorso di prevenzione non può portare una diagnosi veramente tempestiva e precoce per cui si mettono in atto tutte quelle tipologie di interventi che permettono di trattare in modo risolutivo questo terribile male che affligge 52.800 donne nel nostro paese ogni anno per cui si può arrivare alla guarigione sicura anche a distanza di tempo. Per cui la diagnosi precoce è il fondamento principale per poter fare tutto quello che serve per salvare la vita della donna. La diagnosi precoce necessita di una strumentazione adatta e soprattutto di un personale esperienziato che noi abbiamo in casa di cura.